ragazzuoli se volete supportarmi nell'item shop di fortnite potete farlo andando nell'item shop cliccando sul rettangolino in basso a destra e digitare semplicemente il mio nome ovvero creatomist accettare e il gioco sarà fatto inoltre solo per oggi hanno nuovamente rimesso la recon expert una skin super super oggi che in veramente in tanti di voi si ricordano e ovviamente non posso che andare a shoppare questa skin perché è davvero davvero bella quindi ragazzi se comprate questa skin con i miei codici creatore vi ricordo che potete fare una stories su instagram dove mi potete appunto taggare e io condividerò ogni vostra singola stories e detto ciao ragazzi lasciate un bel mi piace a questo video è una buona visione cioè non so se riescono a dividere no non lo farebbero mai rovinerebbero la prima cosa cioè rovinerebbero proprio le persone che ci giocherebbero in generale secondo me capita ma poi ora il prize pool è un buono ma fai donna qua sotto what the fuck sto arrivando l'elicottero vola sopra di noi penso che mi sto dando pastiglia questa è la menta arrivo ma non botta più questo qua dentro non è la botta quelli sotto si penso che fosse la botta dentro non penso che c'è non so se i bot li danno la skin o li danno il no skin non me lo ricordo dove l'ha spattato non vedo lì 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 ce l'ho fingato la prima cosa è aver di regalare il suo stesso grado come c'è der un glabisch justin bel nome fra no 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 davanti a te davanti a te oh oh non potevo what the fuck questo era botta l'ultimo sì l'ultimo per forza marty ma che fa marty penso che sia una simità per buoni marty ma quali sono i veri buoni non pigliano l'ultimo non so pagare eh l'hai fatto in c***a si è concentrato ma ha pigliato eh sembra panda no scusa cioè questo non mi ha pigliato un hit niente c***a non mi ha pigliato ma che ma che si ferma no 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 o mi sogno il rumor dell'elicottero lo sto sentendo qua dietro siamo spiltati attento qua sento gente vicino più o meno sì tu sei proprio a f*****a addio sto bello per aumentare il livello del pass questo player sta piangendo questo player sta lacrimando io ho fatto tipo una pernacchia con la bocca io ho fatto tripla hsdr vai 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 sto facendo credi un confine l'ho notato subito ma che c***o credi mo dietro di te l'ha cenato è one hit l'altra è sciotta ok non so dove è finita non è morta due lo uccisi però manca ancora qualcuno sicuro eh sì sì l'avevo vinta per la volta è scomparsa non giuro ok sì eccola ma è la prima che gira in questo motivo non capisco prendo l'osero c'è un non so se lo vuoi di rock sì 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 è sceso questa è la skin di klix attenzione tre yardini incoming vai ti va ci sono morti col bocca oh c***o ok non è un tre yardini già da come si muove no no ma è un player vedete guarda te oh mio dio allora uno dentro io ho fatto dopo i tisti gianco uno è un hit per me ma è un tifo alberi è morto o no uno lo ho filato pure io un altro per me ma non è guai e questo è proprio di me aveva l'artic assassin non potevo non ammazzarlo io cioè non esiste questa cosa sono qua se ti interessa c'è uno pure da me chittato knockato c'è un altro c'è un altro arriva morto vedo dove sono i suoi amici infatti sono quelli ma la gente come gioca però ah ok scar mitico e rpg ora va questo tizio stanno venendo verso il noia uno one hit quello sotto è buonissimo quello sotto ah l'ho da sono lì ah qui eh sì sì anche qua ah prendiamo laggino e via player sì sì ti nota già che sparano in aria morto 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 17 tutto bene gli ultimi 3 3 3 4 andare per le 20's vai vai la neva ragazzi no comunque c'è da un giro mi sta fogliando l'elicottero l'elicottero te lo sento ancora in testa il rumore c'è l'ho in testa il rumore dell'elicottero eccoli nemico avvistato vai io scendo con l'elicottero che mira ragazzi ma allora c'ho una mira devastante ah mi andiamo a prendere mi andiamo a prendere ok è altro che prendere qua oh oh sei impazzito vai 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 attiva la bomba e vai la musica non lo so devi scendere devi scendere c'è un mazzo devi scendere devi scendere devi scendere devi scendere devi scendere oh di fari non di fari paparabà ok vai time to fucking clutch missione è compiuta fight on point uno dead bravo due dead sì la bananita ha nato è quello che l'avevi gettato è morto è la bananita è l'ultima dov'è? è lì nel bush sta restando il conno il conno è la finale ragazzi quante le ho fatte? ho perso il conto 21 21 erano 4 21 vediamo match stats 21 gg in the chat ragazzi da canale da canale ragazzi 47% che ora si 47% che ora si no no ma devi vedere l'ultimo la bananina quando ero alla distanza c'erano 300 metri ho fatto hs hs e body body alta che pad player ragazzi ma si era curato infatti per quello ti ho detto che si 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 era curato sicuro perché beh figurati grazie 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 grazie